Ciao ragazzi bentornati su macmaiam.com Oggi vediamo come integrare l'MQTT su Home Assistant e quindi come leggere dei dati da sensori remoti magari autocostruiti subito dopo la sigla Bene eccoci qua come promesso andiamo avanti con l'argomento Home Assistant ed MQTT andremo a vedere come possiamo integrare la lettura di un sensore remoto in questo caso è un sensore di temperatura che ho fatto io con una SP che mi trasmette ogni tot tempo, mi sembra ogni mezzo minuto mi trasmette i dati di temperatura di casa lo fa sia sul mio sistema che ormai dovreste conoscere ma lo fa in contemporanea via MQTT ad Home Assistant per permettermi poi di fare eventuali automazioni Oggi vediamo come fare la parte di configurazione di Home Assistant poi se a voi interessa possiamo vedere anche tutta la parte di programmazione della SP però fatemelo sapere magari sui commenti se questa parte vi può interessare allora cominciamo da questa slide che mi sono fatto per ricordarmi i vari passaggi perché sennò io sicuramente mi vado a incasinare cose da fare la prima è installare il broker perché l'MQTT funziona con delle stringhe delle stringhe multilivello che di base permettono la comunicazione fra le varie schede vedremo che ci sono delle stringhe che permettono poi di dare dei comandi remoti ad altri dispositivi altre invece servono solo a mandare, a trasmettere dei dati veri e propri, dei messaggi la cosa importante però da sapere è che ci deve essere un sistema che smista questi messaggi il sistema che smista i messaggi è il broker quindi il vostro sensore che sia l'SP che sia anche un sistema commerciale che utilizza l'MQTT dovrà inviare questi dati al broker dopodiché il broker li rismisterà e da lì altri client potranno andare a leggere e interagire con il broker stesso attenzione a questa cosa perché Home Assistant da una parte è un client dall'altra però ci dobbiamo installare il broker perché il broker sarà quello che smista i messaggi ma Home Assistant poi per leggere questi messaggi e interagire dovrà fungere anche da client quindi in realtà sono due entità differenti il 99% delle persone utilizza Mosquito su Home Assistant è molto semplice da utilizzare è quello che ho utilizzato anch'io in passato è una banalità ma ho voluto cambiare non ho voluto cambiare perché non funzionasse ho voluto cambiare perché così preparandomi per questo video ho notato questo EMQX che sembra essere un broker più avanzato più performante con funzionalità in più e ho detto perché non lo proviamo visto che in italiano non c'è molto si trova poco ci sono poche informazioni allora lo installiamo insieme andiamo a vedere come funziona meno le basi prendete questo video un po' come un video di base perché anch'io sto cercando di imparare un po' come funziona quindi oggi arriveremo al risultato cioè leggere i dati dal mio sensore e poi farci due grafichetti giusto per avere un primo input poi quando le cose iniziano a funzionare è molto più facile poi avanzare e creare qualcosa di più complesso quindi installare EMQX è il primo step da fare per farlo entriamo entriamo qua dove l'ho messo eccolo qui questo è il nostro home assistant di test quello che utilizziamo per appunto testare le nuove funzionalità mentre vi faccio vedere questa è la versione invece mia personale di casa vedete che qua c'è il sensore temperatura del salotto con 3-4 grafici ne ho messo più di uno per fare dei test appunto in cui vediamo la temperatura attuale che è di 25,62 gravi allora cosa dobbiamo fare dobbiamo installare quel plugin quindi andiamo qua in impostazioni andiamo in componenti aggiuntivi e qui raccolte componenti andiamo a cercare l'iconcina verde che eccola qua è EMQX e questa è l'iconcina verde con le sbarrette noi andiamo a installarlo ecco una volta installato come sempre attiviamo il washdog attiviamo l'aggiornamento automatico lo mettiamo nella barra laterale sempre che lo vogliate e possiamo avviare il sistema in configurazione non c'è nulla di particolare quindi possiamo tranquillamente avviarlo una volta avviato ci comparirà quindi qui la ecco una cosa vedete che qua c'è scritto bad gateway l'altra volta vi ho detto che risolvevo quasi sempre ripulendo la cache del browser in realtà ho scoperto a forza di guardare video sull'argomento che questa cosa qua spesso succede quando il componente non è ancora pronto quindi io l'ho avviato ma non è del tutto attivo quindi c'è un errore di comunicazione tra i componenti interni quindi a volte basta attendere un attimino e dopodiché il sistema il sistema parte da solo adesso vediamo se così approfitto per mostrarvi cosa che non faccio mai nel registro qua ci sono tutte le informazioni di quello che sta avvenendo in merito al singolo il singolo componente vedete che qua si è messo ad ascoltare nella porta le porte standard vedete che questo broker a differenza di moschito permette di utilizzare anche una connessione sicura SSL e questo è uno dei motivi per cui l'ho scelto perché esistono dei dispositivi in più diciamo recenti che utilizzano questo protocollo e con moschito non potreste utilizzarli la porta standard comunque è la 1883 mentre come vedete le porte utilizzate per le connessioni sicure sono diverse ma torniamo a noi vediamo se adesso funziona colpifero proviamo ad aggiornare a fare un aggiornamento di tutta l'interfaccia perché non funziona ok adesso è partito ragazzi ci voleva un po' non so cosa cosa dire avete notato vi faccio rivedere perché dopo io magari faccio dei tagli in questi tempi morti perché succedono sempre ovviamente quando registro quando faccio le cose di prova non mi capitano poi arrivo qua registro e succedono cose diverse ho premuto qua apri l'interfaccia web ed è partito adesso dice la DOM non è in esecuzione vedete che si sta sta un po' impazzendo proviamo a fare un riavvia è il bello è il bello così della diretta ma non voglio tagliarvi queste parti perché gli stesi problemi che ho io potreste averli anche voi quindi se già li avete visti almeno sapete dove andare a parare qua dovete dare per la prima volta la password di default che ovviamente non mi ricordo più comunque trovare nelle istruzioni perché io vi ricordo che tutti i plugin hanno la loro documentazione quindi se voi andate qui e a cercare troverete che il nome utente è admin e la password è public ok quindi adesso andiamo lì apriamo l'interfaccia admin public e vi chiede la nuova password ok quindi dovete modificarla vi obbliga a modificarla ok una cosa seccante un po' di questo plugin è che ogni volta vi chiede la 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 password ecco uno dei problemi che uno dei motivi per cui probabilmente io ho tutti questi problemi è la mia connessione molto instabile in questi giorni fa schifo non so il motivo ma anche localmente ho un sacco di problemi ho già riavviato i router non so se è il caldo ragazzi qua si muore di caldo altro che i 25 gradi del salotto vedete adesso per esempio ho schiacciato di là e funziona quindi mi continua a dare questi network error ma in realtà l'interfaccia l'ha aperta va bene e andiamo avanti se no adesso tiriamo anche due bestemmioni perché a un certo punto vengo qua per fare dei video di qualità e mi trovo dopo che mi sono preparato a lungo è un po' fastidioso vabbè torniamo a noi però dopo il primo accesso tra l'altro l'avevo scritta qua la password perché sapevo che me la sarei dimenticata dobbiamo creare un nuovo profilo user password dentro authentication ok quindi andiamo dentro authentication che è una di queste icone authentication creiamo un password based ok lasciamo building database vi faccio notare tutti gli errori di grafica sono tutti dovuti a problemi qua non tocchiamo niente e a questo punto se Dio vuole siamo riusciti ad avere il nostro il nostro il nostro utente sto avendo un sacco di problemi in realtà ho visto un altro youtuber con gli stessi problemi che ho io adesso che però dopo gli si era stabilizzato improvvisamente adesso io non so se è appunto la mia connessione che fa schifo che per dire adesso ho perso quello che avevamo appena fatto quindi torno a rifarlo in realtà adesso me lo da come ok dicevo che una volta creato questo profilo possiamo collegare gli utenti che sono abilitati e poi a comunicare con l'assistant e come utenti intendo utenti mqtt quindi ad esempio questo è un pezzo dello sketch del mio sensore di temperatura e qui vedete che il mio user mqtt è magmian mqtt e la pastor è questa lizarda 2000 e quindi questo qua è l'utente che io andrò a definire all'interno della del mio home assistant quindi andiamo di nuovo negli utenti e che troviamo qua ok quindi all'interno di authentication adesso abbiamo questo questa autenticazione pronta andiamo su users a questo punto possiamo aggiungerne uno ci chiede l'utente che me lo son copiato e la password e salviamo nel frattempo il sistema comincia ad essere già un po' più stabile e funziona meglio sinceramente non so dirvi se magari sono delle fasi delle installazioni che vanno avanti in background che sono lente e rendono il sistema instabile per un po' di tempo comunque adesso sembra funzionare meglio ecco una volta completata questa fase e quindi abbiamo installato la parte chiamiamola del broker dobbiamo impostare la parte invece del client quindi andiamo nell'impostazione dispositivi di home assistant quindi torniamo qua e dispositivi scriviamo mqtt vediamo aggiungi interfacce mq eccolo qua è la prima qua sopra una volta installato ci mettiamo qua come broker mettiamo localhost perché è sulla stessa macchina ovviamente potrebbe essere configurato in maniera diversa non è detto che il client il broker devono funzionare su se stessa macchina nel nostro caso è così ma non è non è escluso rimettiamo come un nome utente quello che abbiamo utilizzato prima quindi mqtt è la password che avevo che avevo utilizzato ok le opzioni avanzate non mi ricordo cosa c'è andiamo a guardarle che non mi ricordo ma sì qua è possibile modificare il protocollo ma dato che non so dal lato poi sensore se è compatibile col 5 lo lascio lo lascio così e non tocco non tocco niente diamo l'ok inizializzazione configura bene quindi questa parte è finita manca la terza parte ossia adesso noi abbiamo il broker che riceve i segnali di smista il client che si collega al broker e quindi può leggere i segnali quindi di temperatura quello che è dall'esterno però serve qualcosa dentro home assistant che definisca i vari sensori e come sono le varie cosiddette entità per farlo in questo nostro esempio di oggi lo facciamo a mano quindi andremo nel file e da qui andiamo nel file di configurazione quindi il solito configuration YAML ok e qui dobbiamo andare a inserirci i nostri sensorini per farlo qua ho già preparato ovviamente la 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 nostra depositiva dobbiamo fare una cosa del genere ce la copiamo ok e me la vado a incollare direttamente nel file così vediamo se posso ingrandirla speriamo di sì sì ce la fa ingrandire vedete che c'è una sezione MQTT due punti poi sensor due punti e all'interno qua il blocco con la descrizione del sensore il name è il nome dell'entità quella che noi andremo poi a trovare poter gestire in tutto Home Assistant State Topics è il topic della MQTT che noi utilizziamo in fase di programmazione lo vedete qua vedete questo è identico è la stessa identica cosa ok vedete questo qui unità di misura vabbè questa non è non è fondamentale ma io l'ho aggiunta e la la precisione quindi i numeri dopo la virgola che sono suggeriti insomma al sistema anche questo non è fondamentale ma io ve l'ho ve l'ho aggiunto così ce l'avete lì e fatto questo ovviamente dovete sia salvare che riavviare poi da qui basta che fate riavvia Home e qua riavvia Home Assistant interrompe tutte le automazioni e gli script in esecuzione con questo qua oppure carica le nuove configurazioni senza riavviare tanto potete fare questo che è più veloce ecco ovviamente i dati non li vede per il semplice motivo che la macchina il sensore fisicamente non invia a questo Raspberry i dati non li invia a questo broker ma li invia al broker dell'altro Raspberry quindi da qua non li posso vedere e avevo provato offline insomma a collegare questo broker con l'altro sicuramente si può fare ma non so come quindi in via teorica voi potete collegare questo broker con l'altro e quindi ricevere i dati anche da questa parte e non so come si faccia magari lo approfondisco nelle prossime le prossime volte ma per oggi ci spostiamo direttamente alla alla mia plancia quella definitiva in cui vediamo qui il 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 grafico del del sensore state attenti a una cosa che quando lo lancerete probabilmente otterrete vedete che qua c'è temperatura salotto e ci sono le varie barrette dopodiché mi si è trasformato in questa maniera qua col grafico vero e proprio ecco ci vogliono circa 24 ore di dati quando il sistema i 24 le 24 ore di dati vi comincia poi a fare il grafico altrimenti otterrete solo quelle barrette in cui vi mostra la variazione di temperatura è stato un video un pelino confusionario perché anch'io non è che è la seconda volta che lo faccio ragazzi ed è la prima volta che installo questo broker non lo conosco ancora bene anzi sono ancora un po' un po' perplesso su molte cose sui meccanismi interni non li conosco bene ci devo studiare un po' ci tenevo però a fare questo primo video perché ci sono tutte le basi per cominciare a collegare i vostri sensori quindi anche se il video è un po' confusionario vi ho dato tutti gli step fondamentali per poter cominciare una volta che avete inserito questi dati insomma siete in grado di operare e di iniziare ditemi voi se vi interessa tutta la programmazione dell'SP o se preferite che approfondiamo poi le configurazioni qua sull'home assistant eccetera e ovviamente il nostro scopo è poi collegare in realtà l'inverter e ci sto lavorando perché voglio creare qualcosa che non debba modificare l'hardware dell'inverter perché in realtà sarebbe facile collegare l'SP direttamente all'inverter bypassando la scheda dove c'è l'interfaccia USB l'ho già fatto l'ho spiegato in un forum australiano come fare però è una cosa che non posso indicare qua come tutorial io volevo collegarmi direttamente alla porta USB il problema è che da quello che ho letto non tutti gli SP supportano la modalità host quindi devo vedere se è una cosa semplice da fare oppure no vi aggiornerò perché sto studiando la cosa il problema è che adesso ho ricominciato a lavorare quindi avrò meno tempo per queste cose comunque piano piano lo faremo se voi volete darmi una mano sotto nei commenti potete scrivermi vi faccio presente che ho aperto un gruppo telegram anzi ringrazio quei pochi che ci sono perché lì è più facile scambiarci opinioni scambiarsi anche file con immagini screenshot è molto più semplice comunicare quindi vi invito comunque a iscrivermi al canale telegram in cui ho fatto delle sezioni dei topic quindi ci sarà ad esempio la sezione home assistant come c'è quella programmazione c il fotovoltaico è tutto separato in modo che ogni discussione è divisa dalle altre e potete andare ad ascoltare a seguire solo quelle che vi interessano quindi vi invito a entrare là dentro in modo che possiamo condividere più facilmente questi contenuti darci una mano insieme e sviluppare più velocemente questo progetto ci vediamo alla prossima ciao ragazzi ciao ragazzi bentornati su macmion.com oggi vi faccio vedere come integrare dei sensori mq ciao ragazzi bentornati su macmion.com oggi vediamo come integrare dei sensori che funzionano con l'mq addio benedetto un po' Grazie a tutti.